Milan e i suoi dottori commercialisti ed esperti di contabilità contribuiscono alla crescita di migliaia di piccole e medie imprese. Ti serve un consulente per risolvere i tuoi problemi amministrativi, fiscali, contrattuali, per conciliare le tue controversie? Non scegliere un consulente qualunque, scegli un commercialista iscritto all'Ordine di Milano. Controlla sul sito www.odgc.com In questi anni, grazie all'impegno di più di 2.000 colleghi che lavorano nelle commissioni di studio dell'Ordine, siamo cresciuti. L'Ordine, sei tu. L'Ordine, siamo noi. L'Ordine, siamo noi. Grazie a tutti